dimostra l'azione del perché il matto di un proiettile può essere rappresentato come una parabola per prima cosa analizziamo il problema, vediamo che il proiettile ha la velocità iniziale questa velocità può essere scomposta nella velocità in x e nella velocità in y sul proiettile agisce anche una forza, la forza di gravità g a questo punto vediamo che sull'asse delle y abbiamo un moto uniformemente accelerato infatti abbiamo una gravità e una forza mentre sull'asse delle x non abbiamo nessuna forza che viene applicata per questo motivo abbiamo un moto elettrino uniforme analizziamo il moto elettrino uniforme, il moto elettrino uniforme in x, quindi lo spazio in x può essere scritto come la velocità in x per il tempo in questo modo possiamo descrivere lo spazio in y, questa volta utilizzando l'equazione del moto uniformemente accelerato quindi lo spazio in y è pari a un mezzo, la nostra accelerazione, che in questo caso è meno g perché si oppure al moto per il tempo al quadrato più la velocità in y per il tempo per dimostrare che il moto del proiettile è un moto parabolico poi basta mentre sistema queste due equazioni nella prima ricaviamo il tempo quindi il tempo è pari a lo spazio in x diviso la velocità in x nella seconda la sostituiamo quindi lo spazio in y è pari a un mezzo che moltiplica meno g per lo spazio in x fratto la velocità in x al quadrato più la velocità in y per lo spazio in x fratto la velocità in x e come moltiplichiamo quindi spazio in y è uguale a un mezzo che moltiplica meno g spazio in x alla seconda fratto velocità in x alla seconda più velocità in y per lo spazio in x fratto velocità in x per capire meglio chi ha la variabile dipendente con l'indipendente studiamo spazio in y con y e spazio in x con x lo tieni quindi in equazione di questo tipo quindi y uguale a g per x alla seconda fratto vx alla seconda meno perché è meno g più velocità in y per x fratto vx vediamo quindi che abbiamo il termine x alla seconda il termine x alla prima il termine x alla seconda ci determina il fatto che questa equazione è rappresentata come una parabola e l'ultima cosa ci mi ha da dimostrare è che il parametro a sia negativo abbiamo due quadrati abbiamo velocità al quadrato quindi un numero positivo G che è un'accelerazione quindi positiva tutto per meno 1 e quindi anche l'A è minore di 0 quindi la rappresentazione del del moto può essere una parabola con cavità di volta verso il basso e questo dimostra che il moto del proiettile può essere descritto attraverso una parabola che è un'accelerazione che è un'accelerazione che è un'accelerazione